Da oggi il porto di Trapani ha in funzione, su iniziativa della Polizia, un nuovo posto di identificazione e fotosegnalamento allestito presso il Molo Ronciglio, una struttura destinata a fronteggiare le esigenze connesse al flusso migratorio che interessa l'intera provincia trapanese. Il sito è stato dotato di tutto l'occorrente per consentire alla personale dell'Ufficio Immigrazione e alla Polizia Scientifica di procedere il più celermente possibile all'identificazione. All'inaugurazione hanno preso parte anche i rappresentanti di tutti gli organismi coinvolti durante gli sbarchi dei migranti, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa, Frontex ed Esercito. Sicuramente questo è un grande passo avanti nel lavoro che noi facciamo di identificazione dei migranti e della verifica della loro posizione sul territorio nazionale. e evitiamo così di fare ulteriori passaggi dalla struttura di Milo che come sapete è un centro di trattenimento anche se nell'ambito del compound erano presenti anche degli uffici e sono presenti tutt'ora degli uffici. Questa struttura qui leggera sul Molo Ronciglio ci mette nelle condizioni di poter gestire più facilmente gli sbarchi ed avere immediatamente dei riscontri sulla posizione dei migranti sul territorio nazionale e quindi da qui ci saranno poi degli spostamenti che verranno organizzati direttamente da qui in maniera molto rapida anche se esiste anche una struttura, un minimo diciamo di struttura che è quella che è la denso struttura che vedete all'ingresso che ci consentirà eventualmente di fermare qui per qualche ora in attesa che ci siano i vettori pronti per poterli spostare eventualmente nei gas o nei luoghi d'accoglienza per minori. Intanto partirei dalla posizione attuale del punto di identificazione che è vicino a quello che potenzialmente potrebbe essere il punto di sbarco e quindi la primissima accoglienza data alle persone che qui arrivano e che a seguito dell'identificazione in relazione al loro status giuridico potranno essere più tempestivamente una volta accuditi destinati alle sedi d'origine o secondo il piano di smistamento del Ministero dell'Interno oppure nelle strutture diversamente indicate. Per quanto riguarda il CPR come sapete è temporaneamente chiuso a seguito degli ultimi episodi che si sono verificati con gli incendi determinati dagli ospiti, i lavori sono in corso quindi il CPR al termine dei lavori e della sua rifunzionalizzazione riprenderà il suo lavoro.